Benvenuti in questo pre-video sul canale, oggi ragazzi vedo dire una cosa molto importante, anzi due, prima che inizi il video. Allora, ieri è uscito un video davvero molto importante per me, perché è frutto di una collaborazione molto importante nata negli scorsi mesi. Vi lascio il link in descrizione, se arrivate da questo video scrivete hashtag ci sono, voglio vedere un attimino quanta gente arriva da questo video. La seconda cosa è che questo troll non doveva neanche avere la luce, poi ho registrato talmente tanto che usciranno ben due parti. La seconda solo se arriviamo a 4.000 mi piace settimana prossima, sempre alle 18, sempre di domenica. Ragazzi, non dico nient'altro, andatevelo a vedere perché, cioè, è successo l'incredibile e vi lascerò il finale con un po' di voglia di vedervi il prossimo episodio. Quindi vi lascio il video, iscrivetevi, se siete nuovi, bella. Ragazzi eccoci in partita, stiamo per iniziare a trollare, però prima che inizi il video voglio dirvi una cosa. Prima ero entrato con Inetta Girl, adesso sono bjokerman qualcosa, bjokerman. Ecco vorrei dirvi una cosa, se mi scoprite, ok? Se settimana prossima io trollasse ancora con Bicorman questo account premium qua, non andate a dire a tutti che Bicorman è Marci perché rovinate solamente un video. Qualcosa come 5 minuti fa ho provato a trollare con Inetta Girl. Purtroppo però qualcuno ha spoilerato la mia identità e non ho potuto continuare a fare il video Quindi vi prego gentilmente di non farlo più Non me la prendo ragazzi, fa niente per quello che è successo prima Però cercate di capire che non è una cosa giusta, non è una cosa da fare Cioè godetevi il video, godetevi il troll e niente Allora, mettiamo 10.000 secondi Oddio sì, sì io mi vedo ancora però gli altri non mi vedono Allora permi tutti, mettiamoci in creativa GameMod1, mamma mia regà Mamma mia c'è proprio l'hype Allora cominciamo negli zombie Vediamo gli zombie che sono la cosa un pochino più carina da per trollare E tippiamoci Vediamo un po' da chi possiamo andare Andiamo da... da Bughino Ciao Bughino Wee Bughin, wee Bughin Allù Se io faccio così Stai laggando zio Ma mi vede lui Ma lui mi vede Ma lui mi vede Ma perché mi vede se ho l'invisibilità Ok ragazzi Piccolo Piccolo problema Allora non è che mi si vedeva Praticamente Mi si vedeva solamente il fatto che volete in mano Ok Ok Scusate Allora adesso lui non mi dovrebbe vedere Se io gli faccio un po' di da... Bughino Eh cazzo Bughino Aspetta Mettiamogli uno dietro Aspetta Aspetta Mettiamogli uno qua dietro di nuovo Aspetta No ragazzi Questo mi muore Dov'è Bughino Guarda che non c'ha più cuori Povero Bughino Aspetta Mettiamogli un sacco di cose dietro Mettiamogli un sacco di cose Wee Bomber Allora Allora Ciao Bomberissimo Ma avanti te ne metto dietro Occhio Bomber No Bomber Sei attento Sei attento Bomber Aspetta Facciamo una cosa Lo rinchiudiamo in una sfera di vetro Aspetta Glass Ma raga Raga Qua si vola proprio a livelli estremi Qua si vola proprio a livelli estremi Bisogna stare atti Bisogna fare in fretta H Sfere E dentro E dentro raga E dentro Dai zio ma devi dire qualcosa in chat Non puoi non dire niente Ah scusa Aspetta Proviamo a farla andare in alto E lo faccio Lo faccio morire da danno di caduta Raga Lo faccio morire da danno di caduta Guardate È vivo Quanto ne è rimasto Niente Oh porco due Raga Sta scrivendo Bughino scrive puntini puntini Allora facciamo così Gli facciamo una bella palla di bedrock Ma una di quelle proprio belle pesanti Facciamo sette Sette Lui in teoria è dentro adesso Lui rimarrà qua dentro per sempre Perché praticamente Cosa succede Che adesso io me ne vado Io me ne vado Ma non torno più da lui Cioè io da lui non torno più Ok Cioè io da qui Non c'è proprio zero raga C'è proprio zero Però devi farmi prendere La bedrock Mi fai mi fai prendere Ok facciamo così Facciamo così Ok noi possiamo risalire E lui Raga Sofox alla xl Si vede nella live Di Nick Roma Oh raga Andiamo da Sofox Andiamo da Sofox Vediamo un po' se Sofox Veramente usa l'x-ray Aspetta Dovrei mettermi in GM3 Ragazzi per controllare Aspetta Non possiamo buttarlo giù tipo Nella lava Ops E zio hai spaccato te Hai spaccato te Hai spaccato te E' morto Ops Scusa Scusami Sofox Ti giuro Ti giuro che non volevo fare Quello che ho fatto Mi rubo la tua roba Intanto Interessante E ci faccio anche Slash Clare Sbam Così proprio di cattiveri Io adesso però Andrei da un alto Andiamo da TP Andiamo Boba Andrei Non tocca Più Chiarageli Ci conosce troppo Giuseppe 88 Ragazzi Giuseppe 88 Mi sembra la persona Più indicata Per questa cosa E io infatti Ragazzi Gli spawnerò I creeper A lui Guarda Gli lo metto qua dietro Gli lo metto qua dietro Grande Zio Zio Sei un grande Sei Zio Sei proprio un grande Sei un grande Non li fanno niente I creeper Non si capisce Perché non li facciano niente Aspetta raga Dobbiamo farglielo spawnare dietro Dobbiamo farglielo spawnare dietro Dobbiamo farglielo Aspetta Fatemi mettere l'invisibilità Di nuovo Per sicurezza Per sicurezza Mille Ecco qua Per altri mille secondi Che sono tipo 10 minuti Qualcosa del genere Facciamo così Vediamo se gli esplode E mi sa che muore Giuseppe No raga ve lo giuro Non volevo farlo uccidere Non volevo farlo morire Non volevo Vi giuro non volevo farlo morire Ve lo giuro raga Non volevo farlo morire Ve lo giuro Raga Ma voi trovate diamante? Ci stava un trizzo Che mi trollava Zio Però non sanno che sono io Oddio sto male No raga Fermi Vado da quello Che mi uccideva in live Franci qualcosa Tipo si chiama Franci gamer Eccolo qua Franci gamer Ciao Franci gamer Ma io adesso farò una cosa Molto bella Ti metterò un creeper Anche a te dietro Vediamo un po' Se ti rendi conto Del fatto che ci sia un creeper Ok lui l'ha visto il creeper Perché mi vede Come cazzo Fa a vedermi lui Dove se non io Ci sta una sfera di bedrock Mi sa che marci Povere Franci gamer Ci sgama subito Mannaggia Franci gamer Andiamo dall'ultimo Non c'è E' incazzato Grande Pala Bravo Pala Che lui Sta cercando di fare Del suo meglio A lui Li mettiamo ragazzi La strega La witch Sapete perché? Perché la witch Ti lascia Con praticamente Pochissima vita Mettiamolo qua Oddio Oddio Sto No raga Non ce la faccio Raga Non ce la faccio Lui mi vede Le cose Vi sto controllando Se usate hack Non so se rimani vivo Zio Purtroppo Troppo Somma Somma Poi ti l'ho vedata bene Adesso mettiamo tutto qua Ok Ok Sto mettendo un sacco E' morto Raga è morto Non ce l'ha fatta Raga non ce l'ha fatta Non si può fare niente Aspettate un attimo Io vi metto anche la night vision Così vedete meglio Effect Comunque Tipiamoci da qualcun altro Tipiamoci da qualcuno Andiamo tipo da Army in Blitz No Il nome di XX Mr. Mica Switch è già tutto in diamante Però La witch dietro Non gliela toglie nessuno Aspettate La witch dietro Non gliela toglie nessuno Guarda che sono le mele d'oro Zio Guarda che Guarda che sono le mele d'oro Ci sono i diamanti qua Raga Mettiamoli un sacco di diamanti in più Mettiamoli un sacco di diamanti in più Dai Come fa a vedermi Non mi può vedere Non mi può vedere Raga Non mi può vedere adesso Noi ce li piacciono un sacco di diamanti a sto qua Te lo giuro Deve prendere Deve prendere qui i diamanti Devi prendere Prendi i diamanti Su muoviti Raga avete diamanti Avete diamanti Avete diamanti Qualcuno fa team Fate team Ah non lo sapevo Non lo sapevo Io sono chiuso nella sfera di bedrock Se c'è qualcuno Se c'è qualcuno Mi tippi Da buggino Aspettate raga Fatemi andare lì full diamond Ovviamente Perché se no Mi ha detto che quello Comincia a uccidermi Fammi dare un po' di mele No 64 Va benissimo Va benissimo Siamo in diamante Sì siamo in diamante adesso Allora togliamoci Togliamoci la Aspetta mettiamoci qua dentro Togliamoci l'invisibilità Effect Clear Aspetta no Non è così Effect Clear BG Ok ragazzi Ci siamo tolti la roba Però Fatemi mettere night vision Lo stesso Mi tippo da buggino Mi tippo da buggino Ero bravo Non ce lo faccio raga Sono in una sfera Di bedrock Ce la faccio raga Fatemi dare un po' di mele a buggino Gli ho chiesto se facciamo team raga Gli ho chiesto se facciamo team Intanto non posso fare niente Oddio Oddio ragazzi Tippiamo qualcuno Tippi Tipo Ehm Facciamo uno a caso Ottimista da buggino Gli ho chiesto se facciamo team raga Gli ho chiesto se facciamo team raga Gli ho chiesto se facciamo team raga